Musica Rinnovo il mio appello per un'immediata e cessate il fuoco umanitario Tacciano le armi e si liberino gli ostaggi Così Papa Francesco all'udienza generale Dopo la mia morte seppellitemi a Santa Maria Maggiore Dice Bergoglio in un'intervista alla TV messicana Gaza non ha più tempo né opzioni Queste le parole del capo dell'Agenzia delle Nazioni Unite Per i rifugiati palestinesi Israele continua a martellare la striscia Biden critica Netanyahu L'inizio della fine per i combustibili fossili Trovato l'accordo dopo una maratona notturna Alla conferenza per il clima di Dubai Transizione verso l'abbandono La formula su cui si è raggiunta l'intesa Una sentenza che fa discutere Condannato in appello a sei anni Il ragazzo intervenuto per difendere la madre Dall'aggressione del padre Il Tribunale di Torino non riconosce la legittima difesa E ribalta la soluzione in primo grado Un film dolcissimo per andare al cinema a Natale Con tutta la famiglia arriva sul grande schermo Wonka, il prequel della fabbrica di cioccolato Un racconto coloratissimo tratto dal romanzo dello scrittore Roald Dahl Buonasera, buonasera dalla TG2000 Gaza è allo stremo No alle armi, sì alla pace Francesco non si stanca di rinnovare il suo appello contro la guerra Dal Medio Oriente all'Ucraina Cristiana Caricato Per favore, non alle armi Sì alla pace Il tono di Papa Francesco è quello della supplica La voce di un uomo che continua a scongiurare Di fermare la follia della guerra ad ogni apparizione pubblica Al termine dell'udienza generale Nell'aula Paolo VI Il pontefice esprime tutta la sua preoccupazione E il dolore per il conflitto israelo-palestinese Rinnovo il mio appello Per un immediato Se è stato il fuoco umanitario Si soffre tanto lì Incoraggio tutte le parti coinvolte A riprendere i negoziati E chiedo a tutti di assumersi L'urgente impegno Di far arrivare Gli aiuti umanitari Alla popolazione di Gaza Che è allo stremo Non solo la sorte del popolo palestinese Ostagio della guerra nella striscia Il Papa mostra di avere a cuore anche la vita Degli ostaggi israeliani Chiedendone nuovamente la liberazione Anche loro aggrappati alla speranza di una tregua Come quella di qualche giorno fa Che questa grande sofferenza Per gli israeliani E per i palestinesi Finisca Poco prima nella catechesi Dedicata alla passione per l'evangelizzazione Aveva invitato a non essere sordi a Dio Ad aprirsi non solo al messaggio del Vangelo Ma anche al bisogno degli altri Cuori aperti Il suo suggerimento Prima di improvvisare una visita Al presepe Allessito in piazza San Pietro Ma le armi non tacciono Continuano i raid israeliani sulla striscia Mentre Biden spende parole dure Contro il governo di Netanyahu Invitandolo a un cambio di strategia Massimiliano Cocchi Nei soborghi di Gaza City La battaglia va avanti così Strada per strada Casa per casa I soldati israeliani avanzano Coperti dai mezzi blindati Controllano uno per uno Gli edifici che i miliziani di Hamas Usano per colpire E poi nascondersi I comandanti militari spiegano Che la situazione è complessa Perché è lo scenario ideale Per la guerriglia dei palestinesi Ieri in un'imboscata Sono stati uccisi dieci soldati La perdita più grave Nell'esercito di Tel Aviv Dall'inizio delle operazioni Nella striscia di Gaza Dunque nonostante la conquista Di molti dei centri di comando Di Hamas Le truppe israeliane Non hanno ancora il controllo Nel nord della striscia A sud proseguono invece I bombardamenti Soprattutto intorno a Rafah Città al confine con l'Egitto Qui si seppelliscono i morti Dell'ultimo raid 24 persone Molti bambini Quest'uomo è venuto a cercare Di recuperare qualcosa Tra le macerie della sua casa Dice che non si può morire così E che anche i palestinesi Hanno il diritto di vivere in sicurezza Come tutti gli altri popoli Nessuno capisce il senso Di questi bombardamenti Solo Israele e gli Stati Uniti Che non tengono in considerazione Le leggi e le convenzioni internazionali E non hanno alcuna umanità Dice quest'uomo Ieri a larga maggioranza L'Assemblea dell'ONU Ha votato per una nuova tregua a Gaza Il presidente americano Biden Aveva criticato la gestione della guerra Da parte di Netanyahu Ma oggi il ministro degli esteri Eli Cohen Ha dichiarato che Israele Continuerà la sua guerra Contro la massa Con o senza il sostegno Della comunità internazionale Parole che complicano La missione del consigliere Per la sicurezza della casa bianca Jake Sullivan Che proprio domani Arriverà in Israele Le ultime in diretta Con la nostra corrispondente Da Gerusalemme Alessandra Buzzetti Alessandra a te E poco fa Anche il ministro Il primo ministro Netanyahu Intanto una base militare A sud del paese Ha ribadito Che nessuno Fermerà l'esercito israeliano Fino alla vittoria Cioè alla eliminazione Di Hamas Nessuna pressione Internazionale Finché la missione Non sarà compiuta Ma intanto Continuano le operazioni militari Anche nei territori palestinesi In particolare A Jenin Dove da 24 ore Ci sono scontri pesantissimi Con un bilancio Di 7 morti palestinesi Di 4 soldati Israeliani feriti E secondo un soldaggio Diffuso oggi Hamas avrebbe Triplicato il suo consenso Nei territori palestinesi Mentre il 90% La popolazione Chiederebbe le dimissioni Del presidente Abu Mazen Quindi strada Sempre più in salita Per chi crede ancora Nel dialogo Una soluzione A due stati Come Dalkeret Che è uno scrittore Noto scrittore israeliano Che abbiamo incontrato Nella sua casa A Tel Aviv Allora ascoltiamo Le sue parole È come se fosse entrato In un software O un virus Che trasforma tutto In aggressività Senso di oppressione Perché un evento sismico Come il 7 ottobre Rende tutto binario E l'empatia diventa Selettiva Ciascuno vede Solo il proprio dolore È difficilissimo Trovare persone Che riescano a guardare L'altro Non come la parte avversa Ma come essere umano Per questo Ho trovato i messaggi Del Papa Rassicurati Edgar Keret Artefici del racconto breve Dal tratto unirico Italiente È uno dei più tradotti Iscrittori israeliani Della seconda generazione Figlio di due sopravvissuti All'olocausto Conventamente laico In prima fila Nelle proteste di piazza Contro il governo Netanyahu Non nasconde Che dal 7 ottobre Anche lui Fatica spesso A trovare le parole Ho scritto il mio primo racconto A 19 anni Quando durante il servizio Militare obbligatorio Mi è morto Tra le braccia Il mio miglior amico Scrivere per me È sempre stato come avere In auto L'Airbag Che mi protegge Nei momenti peggiori Ma il 7 ottobre Sono stato in silenzio Per più di un mese Mi hanno iniziato A cercare in tanti Via social Chi aveva qualcuno Ucciso Chi ostaggio Chi soldato Un dolore Che ha rotto Tante barriere E pudore Non cercavano Letteratura Ma umanità Ma è stato importante Anche un acceso dialogo Con mia sorella Ebrea ortodossa Con 11 figli Io le descrivevo L'orrore della realtà E lei Era come se lo rifiutasse Cercando di essere ottimista Ho capito Che per lei Pregare Significava trovare Uno spazio Per la compassione E che la preghiera Quanto la scrittura Permettono di aprire Nuove porte Allora ho scritto Un racconto Come protagonista Un ebreo ortodosso Convinto che Dopo il 7 ottobre Attraverso la sua preghiera Perfetta Dio avrebbe risolto I problemi dell'umanità Musa ispiratrice Come scherza Chere E il suo coniglio Da 8 anni Mascò di famiglia Con diversi soprannomi Lo avevamo soprannominato Gans Giocando col nome Del suo partito Blu e Bianco Speravamo Ci aiutasse Ad arrivare alla pace Ma serve ben più Di un coniglio Per salvarci Spero che alla fine Della guerra La gente Capisca che il 7 ottobre Ha mostrato La falsità Di Netanyahu Bengvir Convinti che la stabilità Si potesse ottenere Alimentando la fiamma Dell'odio Pensando di poterla controllare Spero che si arrivi A una soluzione Di due stati Se è vero Che Hamas Non rappresenta Tutti i palestinesi Occorre una nuova leadership Che in modo pragmatico Agisca realmente Per i loro interessi La popolazione Mutasem e Sujod Dal giorno della loro nascita A oggi Cinque guerre Non hanno visto altro Dice la nonna Umm Mohamed La scorsa notte La pioggia ha colpito duro La striscia Allagato l'accampamento Di Rafa Ripari più che mai precari I pochi panni Inzuppati Si gira in sandali O a piedi nudi Melma ovunque C'è un bimbo Accanto alla tenda Impasta acqua e terra Gioca col fango Prova a fabbricare Un mondo Quello che gli lasciano i grandi Non vale niente Passiamo all'altro Teatro di guerra Nuovi bombardamenti Su Kiev Provocano il panico Nella capitale ucraina Sfiorato anche Un ospedale pediatrico Fabio Bolzetta Torna nel mirino La capitale ucraina A Kiev Oltre 50 feriti A causa degli attacchi Missilistici russi Ci sarà una risposta Tuona l'Ucraina Secondo l'intelligenza USA La Russia ha perso L'87% Delle truppe di terra Che aveva in servizio Attivo prima di invadere L'Ucraina E due terzi Dei suoi carri armati Forse per questo Che il Cremlino Ha aumentato il numero Di siti utilizzati Per lanciare droni Il presidente Zelensky È tornato dalla missione A Washington Per sbloccare il congresso Sui nuovi aiuti a Kiev Con l'appoggio di Joe Biden Che lo ha ricevuto La Casa Bianca Sotto lo sguardo Seppur a distanza Ma attento Del Cremlino A Oslo Dove il leader ucraino È giunto questa mattina Per il secondo summit Ucraina-Nord Europa Zelensky Ha rilanciato il tema Della sicurezza E quello di una pace Giusta e duratura Nel continente Ha poi ribadito Non possiamo vincere Senza aiuto E ha criticato Il blocco ungherese Al processo di adesione Dell'Ucraina All'Unione Europea Intanto Dopo l'attacco Eker di ieri Al principale operatore Di telefonia mobile E internet del paese Alcuni servizi Verranno ripristinati Entro la giornata di oggi Mentre Nel rigido inverno ucraino Arriva la notizia Che le autorità russe Nel territorio occupato Della regione di Zaporizia Hanno vietato ufficialmente Le attività Della chiesa greco-cattolica Ucraina Dei cavalieri di Colombo E delle Caritas Inizia l'era post-fossile Così Ursula von der Leyen Commenta Forse con un eccesso Di ottimismo L'accordo sul clima Trovato in Estremis A Dubai Caterina Dall'Olio Si chiama Global Stock Take Il documento finale Che sintetizza l'accordo A cui sono arrivati Quasi 200 paesi Che hanno partecipato Alla COP28 di Dubai Un accordo nuovo Rispetto a quelli precedenti Soprattutto per una frase Che sta facendo il giro del mondo Transitioning away Ovvero fuoriuscita graduale Dalle fonti fossili di energia Così la COP28 Si chiude con un colpo di scena E uno di mano Del presidente Miratino Che si intasca La chiusura dei lavori Dopo il braccio di ferro Durato tutta la notte Con i suoi colleghi Dei paesi esportatori di petrolio Non è stato un prendere o lasciare Però come Sultan Al Jaber Andava ripetendo fin dall'inizio Perché la phase out L'uscita dai combustibili fossili Con una scaletta di termini temporali Precisi Richiesta dai paesi più ambiziosi Ma rifiutata dai paesi produttori Arabia Saudita in testa È scomparsa Vengono anche riconosciute Le tante discusse tecnologie di rimozione Come la cattura e l'utilizzo E lo stoccaggio del carbonio Dominate dagli emiratini Un'altra concessione Paesi produttori È la menzione del ruolo Per i combustibili di transizione Che restano indefiniti Grande apertura All'energia rinnovabili E una citazione Seppur minima Del nucleare Tocca a ognuno di noi Sorvegliare questo processo E avviare quel multilateralismo Dal basso Che ci è stato più volte Chiesto da Papa Francesco Soddisfatta l'Unione Europea Approvazione piena Degli Stati Uniti Durissimo Invece il commento del negoziatore Delle isole Samoa Che guida l'alleanza Delle piccole isole La prima linea Di chi subisce gli effetti Del cambiamento climatico Che si è lamentato Del fatto Che l'approvazione Del testo Sia avvenuta Mentre loro Non erano ancora Nemmeno entrati Nella sessione plenaria Una maxisvalutazione Della moneta argentina Il peso È una delle prime Mosse del governo Di Cavie e Milei Appena entrato in carica Con un messaggio Videoregistrato Il ministro dell'economia Luis Caputo Ha annunciato Che il nuovo livello Ufficiale di cambio È pari A 800 pesos Per un dollaro Affiancato A un aumento Provvisorio Della tassa nazionale Sulle importazioni E delle ritenute Sulle esportazioni Non agricole E non esclude Di accogliere L'invito di Milei A recarsi in Argentina Papa Francesco In un'ampia intervista Alla televisione messicana Nella quale Tra le altre cose Rivela di voler Essere sepulto Nella basilica Di Santa Maria Maggiore Rita Salerno C'è tutta la devozione Di Papa Francesco Per l'icona mariana Della Salus Populi Romani Quando dichiara Nell'intervista Alla giornalista messicana Valentina Lazzrachi Di aver scelto Come luogo Della sua sepoltura Santa Maria Maggiore In sostanza La tomba del Papa Si troverebbe All'entrata A sinistra Della cappella paolina Vicino all'icona Lui tanto cara Una decisione Che rappresenta Una rottura Con il passato recente Se è vero Che dal secolo scorso Sono solo Le grotte vaticane Ad ospitare I pontefici Defunti Ma che la dice lunga Sul profondo legame Che unisce Il pontefice Venuto dall'altra parte Del mondo E la vergine Di cui si conserva L'effigia Nella basilica Liberiana Il colloquio di Francesco Con la vaticanista Messicana Nasce per ricordare La vergine Di Guadalupe Ma affronta anche Alcuni temi Riguardanti Il futuro Del pontificato Francesco Ammette di avere Per il momento Un solo viaggio In programma In Belgio E altri due In Forze La Polinesia E l'Argentina Dove il neopresidente Javier Milei Lo ha invitato Per questo Riconsiderato il viaggio Dice il Papa Poi si sofferma Sul rapporto Con Benedetto XVI Raccontando L'episodio Del congedo Da Ratzinger Tre giorni Prima della morte Quanto alla salute Riferisce Di sentirsi meglio E di non aver mai Pensato alle dimissioni Nemmeno di fronte Ai limiti Imposti dalla vecchiaia E dagli acciacchi La politica Continua in Parlamento L'aspro confronto Tra governo E opposizioni Sui temi europei Cantelmi Pronti a mettere Il veto Alla vigilia Del vertice europeo La Premier Miloni Alla Senato Non esclude Di bloccare Il cammino Del patto di stabilità Se non dovesse andare Incontro Alle richieste italiane Anche sul mess Il meccanismo Salva stati Prende tempo E attacca Le opposizioni Particolari 5 Stelle Mostrando in aula Un fax In cui Di Maio Allora ministro Degli esteri Del governo Conte Aveva inviato L'autorizzazione Alla firma Del mess E questo foglio E questo foglio Dimostra La scarsissima Serietà Di un governo Che alla chetichella E in silenzio Prima di fare Gli scatoloni Lasciava questo pacco Al governo successivo L'ha introdotto lei Presidente Meloni Con i governi Di centrodestra Il mess Nel 2011 E ora È lei Presidente del consiglio Se non lo vuole ratificare È libera Di non farlo È lei Che decide Presidente del consiglio Che prima di volare A Bruxelles Ha avuto il tradizionale Pranzo al Quirinale Con Mattarella La vigilia Del vertice europeo Torna anche sulla vicenda Della foto di Draghi Con Scholz E Macron Sul treno per Kiev Nei momenti più caldi Del conflitto Non ce l'aveva con lui Ma con il PD Si difende Meloni Ma la polemica resta Lungi dall'essere Un attacco a Mario Draghi Come è stato letto Tutti sanno cosa penso Particolarmente Della fermezza Che Mario Draghi Ha avuto sulla questione Ucraina Perché le foto Che lei ha Non sono foto Così simboliche Come quella Di quel momento Ripeto L'Europa Chi inizia a lavorare oggi Nel nostro paese Andrà in pensione A 71 anni Lo rileva L'Ocse Alessandra Camarca I giovani Nel 2023 Nel 2023 Lavoro Si attesta A 66 anni In Italia Il requisito Di futura età pensionabile È tra i più elevati Con 71 anni d'età La stessa di Estonia E Paesi Bassi Ma comunque Tre anni in meno Rispetto a quella Richiesta in Danimarca Non è così Però per tutti Finlandia Paesi Bassi Ad esempio Trasmettono due terzi Dei miglioramenti Dell'aspettativa di vita All'età pensionabile Se paragonato Con lo stato attuale Le nuove generazioni Di italiani Si troveranno In un sistema Che li porterà A subire Una forte penalizzazione Rispetto ai loro Genitori e nonni Un braccialetto Elettronico D'urgenza È stato applicato A un trentenne Italiano Residente In provincia di Mozza Già condannato Per stalking Su proposta Del questore Il primo caso In Italia Che vede applicato Il nuovo provvedimento Contro la violenza Sulle donne Entrato in vigore Lo scorso 9 dicembre Tra le strette Della nuova normativa Proprio l'applicazione Del braccialetto In presenza Dei cosiddetti Reati spia O minacce In caso di manomissione L'uomo potrà Essere arrestato In ogni momento È stato condannato A sei anni Di reclusione Alex Pompa Il giovane Che nel 2020 A Collegno In provincia di Torino Uccise il padre Per difendere La madre Nel corso Di una lite In famiglia Piero Achille Dolfini La corte D'assise D'appello Di Torino Ribalta La sentenza Di primo grado E condanna Sei anni E due mesi Di reclusione Alex Pompa Il giovane Che nel 2020 A Collegno Uccise A coltellate Il padre Giuseppe Per difendere La madre La madre Nel corso Di una lite Familiare Pompa Che all'epoca Dei fatti Aveva 20 anni Era stato assolto Per legittima difesa La vittima morì Per un'unica ferita Inferta Per legittima difesa Nel corso Di una lotta Ad armi pari Contro un uomo Che stava minacciando Di fare una strage La sentenza Di primo grado Rinviata maggio Alla corte costituzionale Da un'ordinanza Della corte d'appello Oggi la condanna Sei anni E due mesi Ridotta Rispetto alla richiesta Di 14 anni Fatta dal PM Perché i giudici Hanno riconosciuto Al ragazzo Le attenuanti Del vizio parziale Di mente Dello stato d'ira E le generiche Nella massima estensione Disposta poi La trasmissione Degli atti In procura Perché si valutino Le testimonianze Rese dal fratello E dalla madre Dell'imputato Che rischiano ora Il falso Alla luce Della nuova sentenza Una sentenza Ed una richiesta Incomprensibile Difficile da accettare Secondo il difensore Del giovane L'avvocato Claudio Strata Che ricorda Come i familiari Dell'imputato Fossero già stati Ascoltati Separatamente La notte stessa Del fatto E considerati Affidabili Dai giudici Di primo grado Alex non è un assassino Mi ha difeso Altrimenti sarei stata L'ennesima donna Uccisa Ha detto La madre del giovane Il produttore americano Di auto elettriche Tesla Ha avviato Un richiamo Di circa 2 milioni Di veicoli Negli Stati Uniti A causa Di un rischio Associato Al sistema Di guida Assistita Le vetture Riceveranno Adesso Un aggiornamento A distanza Che includerà Avvisi Aggiuntivi Per incoraggiare I conducenti A mantenere Il controllo Del veicolo Senza affidarsi Sempre Al pilota Automatico Pioggia Pioggia nei prossimi giorni Ma bel tempo Nella settimana di Natale Questo Dicono le previsioni meteo Letizia Davoli Dopo il freddo Dei giorni scorsi Sono tornate a salire Le temperature in Italia In città Come Firenze Roma e Napoli Sono state raggiunte Punte massime Di 15 gradi Mentre in Sicilia Si è arrivati a 25 Ma in queste ore Una perturbazione Di origine atlantica Si sta muovendo Sull'Europa Verso il Mediterraneo Portando un peggioramento Delle condizioni meteo Alle prossime ore Vedranno quindi Precipitazioni sparse Soprattutto sulle regioni Settentrionali Più intense Al nord-est Fenomeni che nei prossimi giorni Raggiungeranno anche Il centro-sud Accompagnati da un generale Calo delle temperature La protezione civile Della Campania Ha emanato un avviso Di alerta meteo Di livello giallo Per piogge temporali Valido dalle 22 di oggi Mercoledì 13 dicembre Alle 22 di domani Giovedì 14 dicembre Tuttavia I modelli meteo E lavorati sui dati Delle ultime ore Prevedono per la prossima settimana Il ritorno Di un vasto e robusto campo Di alta pressione Sui settori occidentali Del continente Portando clima mite E condizioni meteo Nel complesso stabili Anche in Italia Quasi mezzo chilo Di rifiuti In gran parte In plastica Ogni chilometro Sui sentieri Delle Alpi E lo sconcertante Il risultato Di una ricerca Antonella Mitola Quando si parla Di inquinamento Da plastica Di solito si pensa Al mare E alle aree urbane Mentre poco si sa Di ciò che viene Abbandonato in montagna Dall'analisi Realizzata in due anni Su 470 chilometri Di sentieri alpini Da Clean Alp Progetto Dell'European Research Institute Emerge un quadro Poco confortante Su un chilometro Di tracciato Si trova in media Mezzo chilo Di rifiuti Per lo più plastica I fazzoletti Di carta E i mozziconi Di sigaretta Sono l'oggetto Più ricorrente Mentre i resti Di un pranzo al sacco Come confezioni Per gli alimenti Bottiglie Contenitori per i succhi Cioccolatini Caramelle Panini Sono la tipologia Più numerosa Non è neppure impossibile Trovare cotton fioc Biancheria E persino pneumatici Per il 30% dei casi Materiali riconducibili Anche a 40 anni fa 810 volontari Che ci hanno aiutato In questa gigantesca Attività Di Citizen Science Ovvero ricerca partecipata E' importante conoscere Questi dati Perché sapendo Che cosa si trova In ambienti naturali Così preziosi E delicati Possiamo più facilmente Fare un lavoro Di prevenzione Mirata Su oggetti E materiali Che hanno Un impatto Molto importante Sulla biodiversità Alpina È morto Antonio Iuliano Storico Giocatore del Napoli E poi dirigente Del club azzurro Iuliano aveva 80 anni Ha trascorso La maggior parte Della sua carriera Da calciatore Nella squadra Partinopea Vincendo due Coppa Italia Ma ha anche giocato Con la nazionale 18 partite Ed è stato Campione d'Europa Nel 68 Ed era Nella nazionale Arrivata in finale Nei mondiali Del 70 In Messico E poi sconfitta Dalla Brasile Da dirigente È stato direttore Generale del Napoli Negli anni 80 Lavorando con l'allora Presidente Ferlaino All'acquisto Di Maradona Da domani Arriva il cinema Wonka Tratto dal celebre Libro di Road Dalla Che questa volta Come protagonista Timothee Chalamet Un film coloratissimo Per tutta la famiglia Ce lo presenta Fabio Falzone Tutte le cose belle In questo mondo Sono cominciate Da un sogno Perciò tu Non mollare il tuo Questo nuovo Wonka Svela come tutto è nato Costruendo una storia Visivamente emozionante E adatta A tutta la famiglia Willy Wonka Ha un sogno Quello che ha promesso A sua madre Prima di morire Diventare un grande Produttore di cioccolato Per la gioia Di grandi e piccini Dovrà scontrarsi Con l'odio Degli altri produttori Competitor Ma anche con la malvagità Degli uomini Finando addirittura Schiavo All'interno di una lavanderia Per i debiti accumulati Mandi a Wonka un messaggio Non puoi vendere cioccolato In questa città O prenderai più di una botta in testa Eppure grazie al suo impegno E la sua gioia di vivere Riuscirà a venire a capo di tutto Nei 8 anni sui sogni Anche con l'aiuto Dell'originalissimo elfo Questa volta a interpretare Wonka È il lanciatissimo Timothée Chalamet Questo è un film gioioso Apporta luce in un mondo Che ne ha un disperato bisogno Almeno così l'ho percepito In vogliare a sognare Ed incoraggiare i sognatori A continuare a farlo Incoraggiare a mostrare Se stessi come si è Chi si è Senza alcuna remora È dichiarare Che condividere la gentilezza E l'entusiasmo Significa tracciare una strada Per il futuro Non solo per se stessi Ma anche per coloro Che ci circondano Ora una breve pausa Tra poco La Corte Costituzionale Albanese Ha annunciato La sospensione Delle procedure parlamentari Per l'approvazione Dell'accordo Rama Meloni Sui migranti Prevista per domani La Corte è stata Chiamata in causa Da due ricorsi Centrati Sulla violazione Della Costituzione Delle convenzioni Internazionali Alle quali L'Albania Aderisce La Corte ha adesso Tre mesi di tempo Per una sentenza Con questo è tutto Vi lascio al meteo E alla diretta della Messa Prossima edizione Del TG2000 Alle 20.30 Grazie per essere stati con noi Arrivederci Arrivederci Grazie a tutti Grazie a tutti